Una ristrutturazione del sistema amministrativo a livello nazionale. Questo potrebbe essere uno dei risultati delle richieste autonomiste di Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna. Dal numero di materie da regionalizzare, argomento principe durante le trattative condotte durante il primo governo Conte, si è passati alla definizione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, che dovrebbero fissare gli standard qualitativi minimi nell'erogazione dei servizi. Il nuovo ministro agli affari regionali, Francesco Boccia, nell'audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha ribadito l'importanza dello strumento, fissando anche alcuni paletti. Primo, senza la definizione dei LEP, in Costituzione da 18 anni, accordare l'autonomia alle regioni diventa rischioso per la tenuta del sistema paese. Secondo, se tutte le regioni chiedessero l'autonomia, il quadro generale diverrebbe più omogeneo, quindi questo passaggio è auspicato. Terzo, va risolta la conflittualità di fondo che ha portato all'impugnazione di un centinaio di leggi regionali, perché attualmente i dubbi sull'esercizio di determinate competenze sono paralizzanti. Si partirà comunque dai LEP che saranno collegati anche ai fondi per gli investimenti nelle aree depresse. Possibili vantaggi per Belluno? Si vedrà. Nei prossimi 40 giorni, entro i primi 15 giorni di novembre, intendo concludere il giro di tutte le regioni, spiega intanto Boccia. Il percorso autonomista potrebbe portare a una riforma dello Stato, ridisegnando i rapporti tra grandi centri e periferie? Tifano per queste ipotesi sia l'UNCEM, Unione Nazionale di Comuni, Comunità e Dentimontani, sia il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Serve un nuovo testo unico degli enti locali, commenta il presidente di UNCEM, Marco Bussone, che riorganizza il sistema delle autonomie locali, dando loro voce, capacità operative e istituzionali, dignità piena ai sindaci, revisione della loro responsabilità oggettiva. Più radicale il cambio di marcia invocato dal sindaco di Milano. Se questo paese continuerà a immaginarsi nel futuro, con 8.000 comuni, un centinaio di province, un regionalismo a 20, penso che ci faremo un gran male.